Cosa stiamo facendo adesso? Non preoccuparti, stiamo solo andando a pattugliare la foresta. Cosa facciamo se succede a noi? Facciamo una ritirata, come ha detto Leftan. È stupido, perché non attacchiamo subito? Sarebbe lo scenario ideale, ma non tutti sono addestrati a combattere e alcuni non sono abbastanza forti. Penso di aver sentito un rumore. No. Affrettati, un altro rumore. Ho davvero sentito qualcosa, non possiamo controllare? Siamo andati a controllare, ma non c'era niente tranne i rami spezzati. Bene, abbiamo fatto il nostro giro nella foresta. Non credo ci sia altro da vedere. Bene allora, torniamo al quartier generale? Abbiamo attraversato i cancelli senza difficoltà. Te credo, se non riconosco un valkyron è un grosso problema. Ehi tu, non passarmi davanti senza parlarmi. Chi? Io? Sì, tu! Che cosa ho fatto? Tutto! Ti ho affidato una missione importante. Non ti ricordi? No. No? Che cosa ci ha affidato? No, su serio, vuoto totale, secondo me questo ha capito male. Sì. Mi sono sicura che stia parlando con il lungo un valkyron? Eh, dovresti dire a Icar che sei mista. Ah, è vero. Scusa, l'avevo dimenticato. No, scusami un attimo, ma non lo sapevamo già tutti che eravamo in un aborto. Sì, ma io pensavo da cinque episodi. Esatto. Ma perché ti ho tirato a fare sta roba adesso? Non ho parole. Ma non siamo tutti concentrati sul fatto che sono spariti i bambini? Sì, infatti. Perché noi, adesso di colpo, è importante la genetica della tizia arrivata. Va bene, cervello di gallina. Mi ero fatti i capelli e se n'è andata. No, però è stata carina. Sì, comunque sono tutti un po' sociopatici in questo gioco, eh. Una volta arrivate all'interno del quartier generale, Valkyron ha suggerito di fare un mini-report unendo tutte le informazioni che avevamo riguardo la spedizione. Che, per così dire, erano tipo niente. Che effettivamente è vero. Cosa vuoi dire? Oh, abbiamo fatto una passeggiata nella foresta. Abbiamo fatto, abbiamo trovato Chiero, che probabilmente era una tresca con altre 3-4 persone nella foresta e basta. Abbiamo trovato una band di casting. Esatto. Per questo siamo andati nella sala da pranzo per l'atmosfera rilassata. E così in dieci minuti abbiamo finito. E dopo Valkyron ha deciso di accompagnarmi alla mia stanza. Potrebbe anche entrarci. Senza fare il timido. In questo momento Valkyron proprio, cioè, dopo questa missione, e la tua totale minifraghismo a riguardo, vattene. Quindi, beh, quindi questo è stato bello. No? Sembra la classica frase tipo barina la serata, cerchiamo di interrompere il momento imbarazzante e andare a letto. Sì, esatto. Non sono sicuro che andare nei boschi per condurre la sorveglianza sia l'attività più allettante a cui potrei pensare. Non è equivoca questa frase. Nel senso che, cioè, in realtà potrebbe esserlo. Se gli mettevano, sai quando quell'espressione di Cassel, perché non ci penso a lui Cassel, abbiamo capito se la stessa persona, ha quell'espressione con quello smirk un po'. Se gli mettevano questa espressione, la frase poteva avere un altro tono, invece del classico tipo guarda che per andare nei boschi è un po' una rottura di Cassel. Va bene, Valtio, c'è qualcosa che ti piace fare, no, perché non l'ho ancora capito. No, ma... Cioè, era bello passare un po' di tempo con te. Faccio, faglielo capire, Kelly. Sì, ma io se fossi in te, Kelly, scriviglielo. O diglielo, chiaro e tondo, perché questo qua non ci arriva. Puntini, puntini. Bello. Grilli sottofondo. Continua l'imbarazzo. Sotto parte Sebastian con... Lei ti accanto. È calato un pesante silenzio. Non sono proprio sicura di cosa dire. Buonanotte. Beh, io vado. Va bene. Buona giornata. Anche a te? Oddio, mi sarebbe piaciuto passare più tempo con lui. E buttati allora, che è morbido. Non potrebbe dirgli, tipo, scusa Valchion, ma non è che ci possiamo allenare insieme? O non puoi insegnarmi qualcosa? Potrebbe essere il mio capo della guardia, non è vero, ma facciamo finta che sia così. Cioè, no. Perché? Dopo che Valchion se n'è andato, sono stata un po' di tempo nella mia stanza. Prima di ritornare al mio allenamento con le armi. Sai cosa dobbiamo fare adesso? Chiedere a Valchion di allenarci. No, andiamo a Jamon, che ci divertiamo un sacco, poi passa di lì Valchion e gli facciamo capire che non abbiamo bisogno di lui. Eh, potrebbe essere una bella idea. Lo facciamo in gelosire. In questo momento Valchion mi sta un po' sulle palle, ecco. Sarei più interessata alla storia della tresca di Keron, della foresta con la band di Castile. Sì. Per diverse ore è stato sangue, sudore e lacrime, però senza il sangue e le lacrime. Ho sentito che i miei skill stavano migliorando, pian piano che mi allenavo. Un sentimento di soddisfazione è calato su di me quando Jamon mi ha sorpreso battendo le mani per applaudirmi. Ben fatto Keler, stai migliorando bene, diventi rapidamente forte. Posso dire che anche sta cosa che noi siamo subito bravissime, levissime e purissime, mi sta un po' dando fastidio. Sì, è che secondo me se non lo fanno questa non va più avanti. Ho capito. Oh, la pensi così? Se ti alleni di più, migliori meglio. Così diventi forte. Va bene, sono stanca di essere un peso. Ci potevano allenarti fino all'inizio comunque. Oh, no, peso, importante. Grazie Jamon. Comunque quella faccia è meravigliosa. Sì, è carinesima. Puccio lui. Meglio gamba? Sì, sì, molto meglio. Solo io trovo leggermente insensato tutto ciò, cioè nel senso. È iniziato l'episodio e abbiamo cercato Mary. Abbiamo trovato Mary, ok. Quello ha fatto scattare il fatto che effettivamente c'è qualcuno nella foresta che può essere che catturi i bambini. Siamo andati a cercarlo, ma non hanno trovato niente. E poi noi adesso siamo qua a cazzeggiare, quando in realtà in teoria deve succedere qualcosa tipo, ok, nuova spedizione, cerchiamo più in là. O cambiamo metodi di ricerca. Invece niente. Beh, dovrei fermarmi per ora, sono coperta di sudore. Che andiamo a vedere finalmente i bagni del Daria. Paura che ci consiglino di andare dentro la fontana. Ho salutato Jamon e sono andata a farmi una doccia. Come ho raggiunto la mia stanza, ho visto una lavagna appesa sul muro in corridoio. Elencava il nome dei prossimi gruppi di sorveglianza. Oh no, non lui. No, vabbè, comunque non è possibile, eh. Leggermente disperata per il partner che mi ha affidato, ho deciso che era meglio andare a letto e senza ulteriori ritardi. Allora, io spero sia nevra. Quasi sicuramente è Ezra. Il giorno successivo, dopo un veloce meeting con gli altri membri della guardia riguardo la missione, sono andata alla ricerca del mio partner, senza grande successo. Bene, continuiamo così. Non lo vogliamo trovare. Ciao Kelly, sei sulla buona strada per la tua missione. Oh, certo. Oh, non c'è con te il tuo compagno? No, preferrei che Bavoso restasse a casa al sicuro e al caldo. È meglio così. Abbiamo qualcuno, il famiglio si chiama Bavoso. È stranamente in linea con noi, quindi va bene. E il tuo famiglio ti abbedisce? Sì, certo. Bavoso è piuttosto calmo e adorabile. Non ho niente di cui lamentarmi. Comunque sì, in qualche modo il Daria riconosce che il nostro famiglio non è più il nostro bellissimo cavallo alato che era l'unica soluzione da utilizzare quando eravamo persi con Chrome su un'isola. Sorvoliamo su questa cosa. Ma probabilmente è quel Sabalis Bavoso. Sì. Che effettivamente si chiama Bavoso forse per quel motivo. Proprio come te allora. Perché dici così? Perché sei calma e inutile. I compagni spesso abbediscono al loro padrone. Che cazzo vuol dire? Lifetan, hai rigirato la domanda. Sembra che stia soffrendo. Cosa c'è che non va, Valkion? Cioè, senza offesa. Se entrate in infermeria e ci uno fa... Non pensi che forse, non so, è stitico? Mi fa male la testa. Strano, essendo così dura, in teoria, ce ne vuole. Veramente? E vuoi andare in infermeria? E dove vuole andare, scusate? Soprattutto non è già in infermeria. No, succede spesso. Passerà, non ti preoccupare. Va bene, prenditi cura di te stesso. Grazie per esserti preoccupata per me. Che sorriso inquietante. Cioè, non c'è una cosa che va dritta in questo cazzo di episodio. Perché altro che non stiamo facendo niente. Non un momento, troppo presto. Ah, Ezreal, ti stavo cercando. Partner. Stai scherzando? Bene, ti sbrigherai adesso? Saremo in ritardo. Guarda che sei tu che sei sparito. Il briefing l'abbiamo fatto insieme a tutti, eh. Te lo dico. Forse tu non c'eri proprio al briefing. Ci abbia nel culo a beccare come partner due capi della guardia. Io mi farei due domandine. Sì, esatto. Tipo, siamo così incompetenti? Anzi, no, non sei incompetente. Ti voglio tenere sotto controllo, secondo me, proprio. Sì, mi sa che sia proprio quello. Siamo partiti verso la foresta, senza ulteriori ritardi. Gli altri membri della guardia sono partiti per la missione molto prima, secondo me. Perché non abbiamo incontrato nessuno di loro. Ma anche lì, com'è possibile? Scusami. Intanto Valkyner è ancora in infermeria. E poi, cioè, non è che possono essere partiti tanto... Abbiamo avuto il briefing. Al briefing doveva esserci anche Ezra. Doveva incontrarlo subito e partire subito. Non possono dircelo che noi siamo partiti in ritardo quando Ezra è sparito. Esatto. Sono andato da questa parte ieri, vero? Io da questa. Hai trovato qualcosa? No, non proprio. In realtà, niente di niente. In realtà ho trovato dei rami spezzati, dei rumori, però Valkyner non ne fregava niente. Ok. Ho visto me come possiamo scegliere tra due zone. Questa è quella che ho già esaminato ieri. Credo di aver visto qualcosa. Vorrei dare un'occhiata. Io non capisco. Quel briefing, cos'è stato? La colazione a sto punto. No, sì. Perché non è possibile che durante il briefing, di solito cosa fai? Tizio 1, tizio 2, voi vi occupate della zona ovest. Tizio 3, tizio 4, voi della zona est. Cioè, perché lui sa questa cosa e noi no? Bah. Va bene. Se rientra ancora nei piani delle guardie, non vedo alcun problema. I piani della guardia? Ma ti sei mai sentito parlare? Cosa intendi? Bravo. Azzar, in questo momento sto apprezzando. Sto morendo dalle risate. I piani della guardia. Ti adoro. Sul serio? Non ho capito se anche lui è consapevole del fatto che sono disorganizzati a merda oppure no. No, secondo me ci sta prendendo per il culo perché ci diamo questo tono. Da, non lo so, su pari. Sì. Ma hai sentito parlare di ironia? Guarda, non la tua. Perché Genevra adesso? No, sono molto confusa dalla situazione. Allora, aspetta. Noi siamo andati in missione con Valkion. Sì. Valkion ha capito che siamo inutili e ci ha lasciato indietro. In realtà io sono delle idee che anche Valkion è inutile in questo caso perché ha trovato dei ramoscelli per terra rotti e fa Oh, cosa vuoi che sia? No, cazzo è una traccia. Non te lo devo dire io nell'atomica geologa. Ok, quindi questo è Valkion. Poi ci hanno affibbiato Ezra. Che non abbiamo capito perché, ma penso che visto che ci odiano ci ha dato quello che noi vediamo. Ok. E ora perché c'è Nevra? Allora, se spunta che ero, lui faceva parte del... Della band in the foresta? Della band in the foresta. La band in the foresta. Della foresta. Eh, se no, eh, non lo so. Allora, la tua missione come sta andando? Ah, di merda. Non abbiamo tratto niente. L'altro è inutile. Questo mi sta sul cazzo. Fate due conti come mi sta andando male. Non abbiamo tratto molto per il momento, vero? Neanche io. Beh, devo andare a cercare il mio partner. Buona fortuna oggi. Grazie anche a te. Buona fortuna. Allora, Ezra. Se devi fare la pipì. Esatto. Va da un'altra parte, eh. Ah, chicca sulla pipì. Che anche quelli è stato un colpo di grazia. L'altro giorno in corriera, ero lì tranquilla che ascolto la musica solo con una cuffietta. A un certo punto sento una tizia che fa al telefono. Sì, no, perché poi abbiamo fatto il treno della pipì. Io ero tipo, eh. Cioè, nella mia mente ho pensato, what the fuck? Che cosa sta parlando sta donna? Oltre al fatto che, tipo, il trenino della pipì. Wait. No, io ero confusissima. Lei fa, no, praticamente, è quando abbiamo in gita con i bambini, dopo il treno della pipì e tutti si vanno in bagno. Chi va in bagno, chi si va male in bagno. Tipo, uh. Perché pensavo di stare per ascoltare un horror. Hai detto qualcosa? No. Il rumore sembrava provenire da dietro l'albero. In che senso il rumore? Ah, quindi non ha fatto lui, psss. È un famiglio. Che sta pisciando. Oppure un altro membro della guardia che sta pisciando. Anche. Bello. Ezra mi ha guardato. Io l'ho guardato. Fondamentalmente ci siamo guardati l'un l'altro. Ma che cazzata è sta cosa? Ma questi funghetti li consumano sul serio? No, cioè, non ce la possiamo mica fare, comunque. Crom? Sei tu? Non così forte. Cosa stai facendo qui? Sto scappando da lei. Lei? Con chi sei, Crom? Cos'è? Te la fai con Mozilla? Sì, Mico e Icar. Sono loro. Loro. Crom? Dove sei? Ho paura. Ma suona come la Gea. Non come Mico e Icar. Anche peggio. Ma come fa lui a non sapere chi cavolo è con lui? Dovresti tornare indietro. Ha fatto un grande sorriso. Ma vedo che non riesce a trattenersi da ridere. Non sto capendo la dinamica della scena io. Seriamente, cosa ho fatto per meritarmi questo? Oh, niente. Hai appena perso una varga. Coricino! Ezzarelle. Avrei preferito stare con te, Kelly. Tu, serio? Dopo che mi hai detto che eri incazzato con me? Beh, volevo dirti che io... Mannaggia. Lei è qui. Devo tornare indietro. Uffa! Cosa stava cercando di dirmi? Stava cercando di scusarsi, Kelly. Ti prego, leggi tra le righe. Povero Crom. Alla Gea. Hanno davvero rancore nei suoi confronti. Boh, a me piace. Non capisco perché non la apprezzi. Se la apprezzi, vuoi per te. Penso che siete tutti piuttosto duri con lei. È davvero molto carina. Oltre al fatto che non ci ha salvato la vita. Ah no! È alla Gea che ha salvato la vita, il capo. Sì, con l'acqua. Eh, esatto. Beh, ha salvato la nostra vita perché se moriva il capo ci decapitavano probabilmente. Quindi la Gea è una persona buona alla fine. Sembra stupida. Ma sì, è un po' stupita, ma è normale. Poveri, la scritta così, cosa ci vuoi fare? Oltre al fatto che qua dentro lei purtroppo sembra stata ampita, gli altri sono dell'incompetente. Sì, infatti. Almeno lei ha dei buoni motivi. Esatto. Sì, naturalmente. Come sei arrivata a testarla così tanto? Questo cosa che portiamo avanti è la causa di Alagea, non si sa. Posso dire una cosa? Molto più interessante del noi che giriamo a vuoto nel parco. Sì, questo è vero. È così. Hai mai provato a conoscerla? Non abbiamo niente in comune. Non servirebbe a niente se mi prendessi la briga di conoscerla. Quindi, se ho capito bene, per te se la persona non ti sembra interessante non provi a conoscerla. Quindi, fammi capire, noi non ti sembriamo interessanti, vero, Ezarel? Esatto, noi siamo veramente noiose, Ezarel. Infatti tu non vuoi conoscerci, vero? So già che non è il tipo di persona con cui vado d'accordo. La vera domanda è se tu vado d'accordo con qualcuno. Potrebbe... Noi stiamo portando avanti la causa di Alagea. Però, conoscendo la nostra protagonista, non vorrei che sotto sotto stesse parlando in realtà di se stessa. Oh mio Dio! L'ego di sta donna è veramente ingombrante. Non lo so, ha avuto un attimo questa impressione, leggendo le risposte però. Questa, soprattutto quella centrale, è molto a supporto della tua donna. E con che tipo di persona andresti d'accordo? Sentiamo. Per caso hai capelli blu, ha le orecchie a punta? E ha uno specchio. Sì, quindi solo il tuo cazzo di riflesso. In genere vado d'accordo con tutti, è solo un'eccezione. Questa è una stronzata. Sì, esatto, vedo che lui vive di sogni e speranze in franche. Vedo. Infatti sei solo un cane con la sfigata del quartier generale in un micchia di bosco. Beh, a me, alla Gia, piace. Ma cercherò di essere più gentile con lei. Ma come persona, non come capo della guardia, ha già commesso abbastanza errori da rinunciare al beneficio del dubbio. Grazie. Carino da parte tua. Continuò, borbottando con lo nero condiscendente che poteva fare uno sforzo. Non riusciva a sentire cosa stesse dicendo. Ma ero felice che si degnasse di fare uno sforzo. Povera la Gia. Credo se lo meriti. Allora, cosa hai trovato qui? Perché non c'è niente. Confermo. Non c'è un cazzo in questi sfondi. C'è proprio nulla. Non ho trovato niente. Ho visto qualcosa. Qui. Anch'io ho visto qualcosa. Qui. Tu. Essere elaborato in mezzo agli arbusti della foresta. E mi sono chiesta cos'è che stesse osservando con così tanta attenzione. Come al solito, è molto meticoloso. Ma cosa vuol dire? È molto meticoloso. Ma che cosa è? Ma pure non ci abbiamo mai avuto a che fare con Ezreal. Meticoloso in cosa? Nel rompere il cazzo? Sì. L'ho guardata attentamente. Non capendo cosa stesse guardando. Quando all'improvviso... Aaaaaah! Spunta un altro K e gli dico no. Basta. Voi le vostre piscine. Andate bene. Cazzo. Sembra un ognuno tra un orso e un bacaco. Ehi, attento. L'uomo venne verso di me. Uomo. Posso dire una cosa? Se lei ha definizione di uomo così ampia. Sicuramente non è una persona lazista. No. Perché veramente sta comprendendo tutto. Perfino le pecore. Chi sei? Ezreal è sulla difensiva. Stiamo veramente conversando con un macaco? Sì. Ok. Io sono nessuno. Andiamo bene. Moby ha incontrato Ulisse che non si è depilato dall'epoca dell'odissea. Vacca boia. Rispondetemi. Ma potresti essere più cordiale, eh. Perché senza offesa, eh. Tra te e me e lui vince lui. Cioè, senza alcun dubbio. Infatti. Uno stecco. Noi siamo inutili e quello è un bacaco orso nero. Sì, esatto. Un bacaco orso. No. È Odisseo. È Odisseo. Che in teoria era un bravo combattente. Tratega soprattutto. Esatto. Quindi non so come c'è finita il Daria. Che cazzo capisco perdersi il Mediterraneo. Vabbè, vacca boia. Cosa stai facendo nella mia foresta? Non dovresti arrivare fin qui. Neanche tu. Questa foresta viene spezzionata con un pettine denti fitti. Allora dimmi chi sei. Quindi tu sei con loro. Quelli che mandano le squadre di ricerca. Precisamente. Allora, da come l'ha detto Ezra, gli avrei detto no. Perché sembra che un po' gli stiano sul batacchio. Anch'io sto cercando. Sembra che non voglia dirci il suo nome. Ho guardato Ezra e sembra che stia pensando la stessa cosa che penso io. Sei sicura, vero? Perché io non ne sarei così certa. Anch'io. Beh, guarda da qualche altra parte. Sei molto fuori dai limiti. Oh, ma Ezra vuoi capire che non puoi far incassare una persona che ci picchia. È la prima legge della giungla, se vuoi stare in tema. L'uomo, beh, la cosa è andata via. Lasciando dietro di sé è una brutta impressione. Allora, da uomo siamo passati a cosa? Che conta la volontà, Erk, Keller, cioè Macaco è meglio. Cioè, capisco passare da una categoria forse troppo ampia a la cosa. Cioè, sia andato almeno di l'animale. L'essere, il mostro, la cosa. No, la cassettiera è andata via. Poi ha lasciato con sé una brutta impressione. Sembra che abbia lasciato tipo la puzza. Qualcosa mi tormentava. Dovrei forse dirlo a Ezra? Beh, parla di questa brutta sensazione con Ezra. Ezra... Sì? C'è qualcosa di sospetto in quel tizio. Credi? Sì, non sono sicura cosa sia, ma qualcosa mi preoccupa. Forse perché la prima creatura non è troppo morfa che incontri. Non c'è niente di umano in Jamon. E là! Toh, un'altra cassettiera. Via, Jamon è iniziata un'altra cosa. Capisco che sembra... Eh, lo so, però gli saranno della cosa comunque. No, lo so. Che strozza che è Leier comunque. È un po' più umano di quel ragazzo. Ma, wait. Il tizio era peloso, ok? Ma aveva gli addominali muscoli come Jamon. Cioè, mi sembra che avesse tutta la gran differenza Jamon e quel tizio. Non credo. Non credo che dovremmo preoccuparci per lui. Non ne sarei così sicura. Adesso fanno un pass e trovano il tizio morto. Squartato. Aveva un altro branco di uomini cassettiera. Visto che gli piacciono così a Keleir. Uomini cassettiere dicono Voi l'avete trucidato! E iniziava una guerra. Ne parlerò amico. Ma seriamente. Non credo che possa fare il minimo danno. Bene. Abbiamo coperto la nostra zona. Non c'è niente. Un altro posto da notare. Presunta qui. No, e vi ha noto alcuni appunti. Sei molto meticoloso. No, allora. Keleir. Cioè, la faccenda è semplice. Stanno perlustrando le zone. Se non ti siedi che zone perlustrato. A un certo punto la gente gira su se stessa. Sì. Allora fallo in fretta. Possiamo prenderci cinque minuti. Calmati. Oh, mi dispiace. Non volevo mettere fretta la tua bellezza. Ora non ci resta altro da fare che tornare al quartier generale. Va bene. Ancora una volta ci avviamo verso il quartier generale. E al nostro arrivo ci hanno aperto i cancelli. Quindi ho scritto tutto. Darò le informazioni a Icar. A proposito, cosa stavi cercando? Eh, Keleir. La riunione che abbiamo fatto prima non ti è servita un cazzo? Non è niente di speciale. Ho sentito un rumore. Forse è stato quell'altro tizio che abbiamo visto. Oh, va bene. Ci vediamo dopo. Oh, va bene. Oh, va bene.